Questo video spiega come bruciare il grasso addominale per uomini e donne in modo efficace e duraturo senza bisogno della palestra. Trovi difficile bruciare il grasso accumulatosi nella pancia e sui fianchi? Comunque è possibile bruciarlo senza impazzire troppo con la scienza. È una questione di logica fisiologica, di buon senso e di autodeterminazione. Migliaia di persone ci riescono, puoi riuscirci anche tu. Ma da dove iniziare? Da dove iniziare quindi? Parlo per esperienza. Non ho mai preteso di avere la verità assoluta, non di meno sono un naturopata nutrizionista che si interessa da più di 35 anni di questo aspetto della salute e durante questo arco di tempo ho potuto verificare che è possibile perdere peso intelligentemente e non rimetterlo successivamente se si adottano le giuste strategie. Queste comunque sono indicazioni educative e generalizzate che ovviamente non possono tenere conto delle condizioni fisiologiche, biochimiche e genetiche di ogni persona che vede questo video. Nota il disclema alla fine. Detto questo, questi sono solo cinque fattori ma sono i principali che se implementati a modo potrebbero apportare un risultato importante nella maggioranza delle persone. Primo fattore chiave. Riduci lo zucchero e i carboidrati semplici. Il primo passo da fare è quello più ovvio, ridurre l'assunzione di zuccheri e di zuccheri aggiunti nascosti, come le bevande zuccherate, i dolci, biscotti, dolciumi, cibi processati e lavorati contenenti elevate quantità di zucchero, i quali possono aumentare il grasso addominale quando consumati in eccesso. Lo sanno tutti. Per avere un impatto serio sul grasso della pancia e dei fianchi è fondamentale quindi controllare i picchi di zucchero o glucosio nel sangue. Un numero sorprendente di snacks e bevande dietetiche sono commercializzate come alimenti dietetici benefici perché sono poveri di grassi ma ciò non significa molto se poi sono piene di zuccheri o di altri zuccheri aggiunti nascosti come l'aspartame, l'alcesulfame, il ciclamato, fruttosio, saccarosio, maltosio, destrosio, ribosio e altri ancora. Limita perciò l'assunzione di qualsiasi cibo o bevanda contenente più del 5 per cento di zucchero e limita alà a non più di due volte alla settimana. Questi zuccheri sono anche presenti nei succhi di frutta, alcolici e analcolici vari. Ricorda di leggere sempre le etichette degli alimenti. Poi ci sono i carboidrati raffinati, trasformati, lavorati, cioè i carboidrati semplici dei cereali come pane bianco, pasta, pizza, biscotti, cornetti, fette biscottate, riso in bianco, eccetera. Se li hai già sostituiti con quelli integrali poi, con farine integrali e riso integrale a lento rilascio, sì, certo, hai fatto la cosa giusta. È molto meglio. Ma ricorda che il tutto è comunque trasformato in glucosio o zucchero durante la digestione, il quale se non sarà poi bruciato adeguatamente sarà a sua volta trasformato in lipidi o trigliceridi, cioè grasso, grasso nuovo nel fegato, ingrassandolo, ma verrà anche depositato nella pancia e nei fianchi. Due cose ti sorprenderanno mentre elimini il grasso addominale e quello dei fianchi. La quantità di glucosio e zucchero che stavi consumando inconsapevolmente è la velocità con la quale il grasso inizierà a diminuire. Secondo fattore chiave. Riduci i grassi saturi ed elimina i grassi trans. Inoltre fai attenzione anche agli alimenti ricchi di grassi saturi e di grassi trans, come fritture, margarina, certi formaggi, carne insaccate, grassi trans, oli trans idrogenati e altro. Moltissimi di questi sono presenti nei cibi e alimenti processati, lavorati, trattati, contenenti una miscela di zuccheri aggiunti, grassi saturi, carboidrati raffinati e sodio, contribuendo quindi all'accumulo di grasso addominale. Pericoloso. Di conseguenza, tre altre cose ti sorprenderanno. Quanto lo zucchero e i farinaci in generale determinano la produzione di grasso e quanto invece i grassi giusti insaturi, nelle giuste proporzioni, aiutano quindi perfino a dimagrire. Strano? No, non è strano. Questo è un fatto biologico e biochimico che noi naturopati nutrizionisti abbiamo constatato da decenni. Oltre a ridurre l'assunzione di zuccheri di tutto ciò che è a base farinacea, evitare quindi l'eccesso di grassi saturi e grassi trans, consumare giusti e importanti grassi essenziali insaturi come l'omega 3 che danno sazietà, aiutano a ridurre i picchi vicemici, promuovono la massa muscolare magra, riducono l'infiammazione, aiutano il metabolismo e di conseguenza lo smaltimento del grasso in eccesso. Questa è saggezza. Terzo fattore chiave. Mangia più fibre. Consuma cibi ricchi di fibre, i cosiddetti carboidrati complessi. La fibra è essenziale per mantenere anche un sistema digestivo sano. Le fibre nutrono i cosiddetti batteri buoni nell'intestino, mantenendo lo sgombro da rifiuti e svolgendo un ruolo cruciale in molti aspetti della salute. Le fibre aiutano ad assimilare, ad assorbire quindi i necessari nutrimenti, supportando il sistema immunitario, sostenendo le varie funzioni metaboliche, influenzando il controllo dello zucchero nel sangue, che a sua volta svolge un ruolo nell'interazione che il pancreas e il fegato hanno nel determinare la funzione celebrale e persino emotiva, il grasso accumulato e quindi il peso corporeo. Senza farla troppo complicata, gli alimenti ricchi di fibre che puoi consumare sono le verdure a foglia verde, insalate varie, i legumi come i fagioli, le lenticchie e i ceci. Poi ci sono l'avena, l'avocado e le noci e i semi oleosi, sempre considerando le giuste proporzioni. Troverai un video sotto e alla fine che ti chiarirà bene il punto. Quarto fattore chiave. Digiuno a intermittenza. Digiuno intermittente. Ora va di moda e tutti ne parlano, ma personalmente ho fatto digiuno intermittente, saltuariamente e a modo mio, per diversi decenni, solo che all'epoca noi lo chiamavamo digiuno periodico giornaliero, più o meno la stessa cosa. In sostanza si tratta di concentrarsi nel nutrirsi più che nell'abbuffarsi, cioè fermarsi quando non si ha più lo stimolo della fame. Difficile? Sì, all'inizio. Ma più educhi la tua mente, più diventa facile e naturale farlo. Comunque, il digiuno intermittente si basa sull'idea di mangiare durante alcune ore della giornata per poi non mangiare nelle rimanenti ore. Inoltre, si può decidere di mangiare accortamente, cioè limitandoci a non più di 700-900 calorie una o due volte la settimana. È una scelta ovviamente personale, ma così facendo non solo perdi peso semplicemente mangiando meno calorie, ma il tuo corpo risponde allo stress del digiuno e dell'alimentazione limitato periodica, migliorando la funzione ormonale, metabolica e approntando una serie di cambiamenti per aiutare a bruciare i grassi e a facilitare quindi la perdita di peso più saggiamente e a lungo termine. Quinto fattore chiave. Muoviti di più. Tutto quello che abbiamo detto finora però deve essere supportato dall'esercizio fisico. Devi bruciare le calorie accumulate. Lo scopo è di bruciare più calorie di quanto ne hai introdotte durante la giornata, invertendo l'interruttore metabolico. L'esercizio fisico è anche efficace nel distribuire i nutrimenti nei nostri organi, nelle nostre ossa e nei nostri muscoli. Quindi muoviti di più, fai del jogging se hai l'età per farlo o semplicemente cammina più spedito, più spedita, fai dell'aerobica, vai in bicicletta, in piscina, solleva pesi in casa regolarmente eccetera. Tuttavia tieni presente che l'esercizio può non essere sufficiente nel contribuire ad eliminare l'ultimo pezzettino di grasso ma sicuramente aiuterà e ti darà la possibilità di tenerlo lontano. Quindi fallo è un fattore chiave indispensabile. Infine autodisciplinati e premiati una volta alla settimana con un piccolo sgarro così da non sentirti privato di quello che trovi al momento difficile da eliminare. Bene, per capire ulteriormente i punti considerati finora dai un'occhiata ai video qui sotto e sopra alla fine che ti convinceranno e aiuteranno nella tua determinazione di bruciare il grasso accumulato nella pancia e nei fianchi in modo intelligente, sano e duraturo.